In più c'è il fatto che qua c'è Gianni Minà, un uomo che io, è inutile che lo dico, tutti quanti già sanno che voglio dire, che io invidio per la sua agendina telefonica. Come? Gianni, non la direi nel caso. L'agendina telefonica che c'è Gianni Minà, è una cosa da invidiarlo, lui è uno che si mette l'altro, ma non lo so se siete. No. La fatta chiamare Cassius Clay, così. E non è che ci battono il telefono in faccia, no? C'è Cassius, è Cassius non è che dice Minà, gli è. No, va il telefono, hi Gianni, how are you? E lui risponde in teleselezione per ora a carico di Cassius Clay, chiaramente. E' la festa di Pino Daniele, però voglio dire che la gente, come tu sei arrivato a me, no? Sì. Come nella F, lui c'ha Fidel. Vabbè. C'è come uno senza Castro, no? Solo prefissi, Cuba, zero, zero. Però no. Dobbiamo. Chiamano, lui chiamano. Io voglio la testimonianza su Pino Daniele, dai. Lui chiami in tutto il mondo, non se ne frega niente, Fidel, zero, zero, cinque, cinque, quale. Per cui vai chiami in Moncata. Lui c'ha il numero diretto di casa di Moncata. Brutta serata questa. Un gruppo che lui quando chiami a Minà in Moncata litigano tra di loro, ci parli, no? Rispondo io, lascia che a me... Lui stava facendo sciogliere in Moncata, questo fatto che chiamo a casa. Lascia e sa, non chiamare più a casa. Non li chiamo più in Moncata. Litigano, litigano in Moncata e ci tengono a te, hai capito? Basta, lascia. E poi, allora, come è successo poi a Pino Daniele, che mi vuole bene, l'ho capito questa sera, e li voglio ancora più bene io. Ah, il tuo Gianni, chiama Troisi per questa cosa. Lui ha pagato la gente. Fratelli Italiani, Vittaltoni, Tocchigno, Troisi. E mi ha trovato. E mi ha trovato.